Franco fermati Sono incattiviti Non c'entro nulla io Non c'entro nulla Ragazzi io non c'entro niente Ma perchè mi devi ammanettare? Ma perchè? Allora ragazzi No ragazzi Ha compreso i suoi diritti? No Ok te li ripeto un'altra volta Ma perchè mi stai arrestando? Ragazzi Sono un collega Ma basta ripetere il disco Dallo spezzo ci sputo sopra Cos'è che fai tu? Hai compreso i suoi diritti? Non li ho compresi porco diaz fatemi andare Minchia che caga cazzo che sei comunque porco diaz Non ho fatto niente Franco non posso gravare la situazione Ascolta mettete le manette anche l'altro in stato di fermo Perchè è una cosa in stato di fermo Dai non sono complice di niente Dai vedi che fai ridere No non mi mette No aspetti Non mettete le manette perchè domani lei ha licenziato Cioè io ho con... No non mi metta le manette Non mi teseri perchè... No 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 Lara non fai... No no Tu lo sai che... Tu lo sai che domani... Tu lo sai che domani tu non lavori più alla polizia Non mi interessa Sì sì Parlerò io col capirano Non mi interessa Va bene tu domani comunque non lavori più alla polizia Mi dispiace però vabbè troverai un'altra voce Ne sono tanti lavori qua in città Eh Tessa fammi un controllo su Daniele Varesano Nell'altro post grazie Prego signori Signore sarò obbligato a trascinarla se non va verso le celle Vabbè mi trascini lei no? Ci sarà... sarà incluso nel servizio Ci stiamo preparando Allora questo ci sta facendo perdere tempo il tuo collega Ah no e voi no invece non mi state facendo perdere tempo Eh non l'ho detto io di scappare Prego sto premendo celle Prendendo celle 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 Ecco Puoi darmi Vabbè goditi questo ultimo giorno nella polizia Perfetto perfetto Radellino sto a un incontro importante Io sono... mi hanno arrestato ti prego vieni a salvarmi Non mi riesco a dire